Opta, il super computer dice scudetto all'Inter, Atalanta la rivale di Milan e Juventus. Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Buon ferragosso a tutti voi e si comincia, anzi si continua con il botto perché è servito un super computer per raccontare a tutti quello che ormai tutti avevamo già capito da un pezzo. Anche Opta, un'agenzia che si occupa delle statistiche, non solo del calcio, ha messo i suoi dati dentro un computerone dal cervellone immenso e è venuto fuori che, attenzione, i parametri che andiamo a leggere fanno davvero paura perché ormai è chiaro anche a loro che questa Marotta League ha solo una destinazione, solo una squadra che può vincerlo. Andiamo a vedere assieme che cosa è che scrivono questi fantastici autori di un articolo comunque che ha del suo e va condiviso. Quindi per questo vi chiedo, come sempre, di mettere un bel like per supportare il video. Siamo a Ferragosto, siamo tutti in ferie, siete tutti in ferie, siete al mare molto probabilmente, vi state rilassando, mare, montagna, dove vogliate voi. L'importante è che leggiate e che condividiate, ma soprattutto che vi informiate e poi condividiate giustamente. iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanellina, è totalmente gratuito, come vi dico sempre, e serve per rimanere sempre aggiornati. Lo commentiamo questo video? Certo che lo commentiamo perché siamo arrivati finalmente a Ferragosto e tutto quello che ci hanno raccontato. Come dice il buon vecchio Dani, padre tempo da tutte le risposte. Vi ricordate un certo rinnovo che doveva essere fatto entro oggi? No? Gli obiettivi di Lautaro in campo col Genoa, l'ufficialità del rinnovo entro Ferragosto. Incredibile! Il capitano lavora da solo, da piano, vuole esserci alla prima di campionato a Marassi. Prima l'annuncio della firma sul contratto sino al 2029. Ci hanno tenuti tutti tranquilli, soprattutto i giornalisti che parlano di calciomercato e giornalisti che poi sono diventati YouTube. Perché per quel che riguarda Pedullà, il quale vi invito a seguire perché comunque sa il fatto suo, dell'Inter non ha nessuna notizia assolutamente. Oggi doveva essere ufficializzata la firma sul contratto di Lautaro Martinez. E almeno che dopo che esca questo video, loro non lo fanno apposta e mettono la firma sul contratto, sembrerebbe che oggi non si smuova questa firma. Avevano detto entro, non Ferragosto. Entro Ferragosto. Prima ci avevano detto prima della Coppa America, poi ci avevano detto durante la Coppa America, poi dopo la Coppa America, poi dopo le ferie, poi entro Ferragosto. Intanto nessuno ha preso il caso in mano nel racconto che c'è sempre, un po' anche fantasioso se si vuole, di un possibile mal di pancia da parte del capitano dell'Inter. No, 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 già è tutto deciso. Che si parla a fare di questo qua? Lautaro Martinez non deve essere toccato e nemmeno commentato. Loro già hanno deciso, lui ha già firmato, che poi ancora la firma non l'hanno messa. Va bene. Che per lo stipendio che percepisce lui ci vuole l'ok di Oc3, che ancora non è arrivato. Va bene. Che però ci raccontano tutte le testate giornalistiche, perché anche Tutto Sport, che è il giornale per eccellenza della Juventus, se andiamo a vedere, un titolino del Tutto Sport. Ufficiale Inter, rinnovo fino al 2000... Specialità. Dai zitto. Mettiamo un attimino. Rinnovo fino al 2029. Questo è quello che ci raccontava praticamente Tutto Sport, che è il giornale sempre della Juventus. Intanto vi chiedo scusa se è partita la pubblicità. Quindi il capitano lavora a parte, lavora da solo. Non è che magari qualcuno maliziosamente gli poteva venire in mente di raccontare Eh, magari c'è un mal di pancia. No, assolutamente non si deve. Non si deve. Perché non si deve? Ve lo vado a leggere. In quest'altro articolo, ragazzi, siamo in tempo per vedere la presentazione del capitano, anzi della firma del capitano dell'Inter, ma fino ad ora solo chiacchiere. Ve lo ricordate quando si parlava di Zang? No, che già ve lo siete dimenticati quando si parlava di Zang. Tutto a posto Zang, ha già pronti i milioni. Pif, Pimco, la famiglia araba, sono tutti pronti a dargli soldi. Poi sono finiti, pignorati. Però non si parlava mai dei problemi. Perché problemi non ce n'erano. Come in questo caso. Problemi non ce ne sono. Pedullà racconta che Conte e Motta hanno avuto fin troppa pazienza. Perché hanno aspettato troppo e stanno aspettando troppo. Mi sembra che la Juventus si sia abbastanza mossa sul calcio mercato. Per quel che riguarda l'Inter. E io non ho novità, ragazzi. L'Inter sta facendo un naming e quindi è inutile che sto a raccontarvi. Perché poi mi chiama e mi dice Oh, ma qua tu stai raccontando. Quindi ragazzi, per favore, non parliamo di cose che non interessano agli anti-Juventini. E allora parliamo di cose che interessano invece agli anti-Juventini e anche agli Juventini. Perché vi do un indizio, un consiglio su come investire i propri soldi. Se avete un euro da investire, lo investiamo qui. Ormai sappiamo che quando si parla di Inter si parla di scommesse. E questo è appurato anche se... Scommesse perché? Perché il sito che fa sponsor all'Inter è un sito di scommesse. Semplice e chiaro. E anche perché c'erano i calciatori che scommettevano all'epoca di Scommessopoli. Ma giustamente il giustiziere della notte, Fabrizio Corona, ha ritenuto di non dover fare i nomi della sua squadra del cuore. E nessun PM, nessun magistrato ha ritenuto di andare ad indagare su queste sue dichiarazioni. Che, diciamo, cozzano con tutto quello che ha raccontato durante il periodo del melodramma del calcio scommesse. Andiamo avanti perché giustamente di scommesse si parla. Chi vince lo Scudetto 2024-2025? Attenzione perché la risposta ha provato a darla alla nota azienda di statistiche legate anche al calcio, Opta. Che ha provato ad interrogare il suo super compiuto inserendo i dati dei passati campionati. Le modifiche alle rose. E, attenzione, il percorso che aspetta le 20 squadre della nostra Serie A. E la risposta è stata indiscutibile. Naturalmente, quando ho inserito nei dati Don Beppino, Gravina, Rocchi, Abisso e tutti quelli guida, scusate guida, chi ne è, e tutta questa gente qua, tutti addetti ai lavori della squadra di città, laggiù il computer è esploso. Pum! Solo una squadra può vincere, ragazzi. Con questa formazione può vincere solo, scusamente, una squadra. Chi può vincere è l'Inter, la grandissima favorita per la vittoria finale. Come si evince dallo studio di Opta, analisi. Infatti, scusate, in Erazzurri mi stavo affucando perché è talmente grossa sta cagare che a raccontarla pure rimane un pochettino. Si sono trovati favoriti con il 79,2%. Un po' così come Opti si è ritrovata proprietaria del 99,9% quando io avevo pignorato il 30,68%. Ma va bene così, va bene così, chi se ne... E qui, in questo caso, sono 72,2% le possibilità che solo l'Inter, la squadra allenata da signor e signor Simone Inzaghi, è invece protagonista come seconda classificata finale con il 13%. Quindi, ci sono il 13% delle possibilità che l'Inter arriva seconda. Poi ci sono il 4% delle possibilità che arriva al terzo posto e l'1,4% che arriva al quarto posto. Della possibilità che possa arrivare fuori dalla Champions League 0,7%. Cioè, bisogna di andare a scomodare il super computer professionale con l'Inter cooler. Bastava che ti guardavi il mio video. E lo capivi subito, chi è che quest'anno è la super strafavorita del campionato. Un video solo devi guardarti. Ma non solo mio, eh. Anche di Gigi Juve, il quale vi invito ad iscrivervi. Marietto Rosso Nero, della Tribù, vi invito ad iscrivervi. Lo stesso Bandito, tanti milanisti. Il Salotto pure. Vessicchio, che è stato praticamente fino adesso sempre torturato. Vi invito ad iscrivervi. Aldo De Girolamo, che inspiegabilmente fa poche visualizzazioni, ma apporta dei contenuti davvero e proprio giornalista, così come Gigi Juve. Così come provo a fare anche io. Però purtroppo non si capisce come mai questo ragazzo non riesce a fare il boom. Ragazzi, andate a visitare questi canali, perché sono gli unici che vi raccontano quello che sta succedendo. E non Copminers o Chiesa una volta alla Lazio, all'Inter. Sì, è bello il calcio mercato, però informiamoci anche su le cose reali che succedono. Come questo. Se questo è una ormai dichiarazione anche da parte del computer, tutti ormai hanno capito com'è che funziona. Chi dopo l'Inter è secondo opta, può arrivare favorita per lo scudetto, è l'Atalanta di Giampiero Gasperini con l'11%. Ma vi faccio vedere le statistiche così almeno ci facciamo due risate, perché dopo l'Atalanta c'è la Juventus. L'Atalanta con l'11,2%. La Juventus di Tiago Motta ha il 4,2% di possibilità di andare a vincere. Qua c'è, ma penso la vedete piccola. E poi c'è il Milan che ha l'1,8% di possibilità, addirittura l'1,3% che riguarda la Roma. Ma, ragazzi, l'Inter ha il 79,2% di possibilità di vincere, secondo, naturalmente, questo super computer. Chissà chi è. Chi è che metteva i dati? Perché dato che quando si tratta di fare i calendari sappiamo che è Buzzi, 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 Olobutti, Olobuzzi. E lui, ex addetto ai lavori dell'Intra, ai tempi di Murigno, quando c'era anche Balotelli lì, che stranamente è finito a fare i calendari. Quindi è lui che mette i dati dentro il computer, dentro il sistema, è lui che poi, una volta che clicca ok, il sistema fa il suo lavoro e ti stila la sua lista, che decide, sì, va bene questa, oppure clicchiamo e facciamo fare un altro giro. Oppure spostiamo questa squadra e la mettiamo, tanto che cazzo mi vede a me, come diceva Ficarra di Ficarra e Piconami, che me lo futta, che me cancia a me. Questo lo metto qua, quello lo metto là. E facciamo un bel calendario, in modo che nelle prime partite abbiamo le partite in casa, che non si giochino stranamente quando ci sono le partite di Champions infrasettimanale, né prima né dopo una partita con una squadra forte, decente, no? Un po' come succedeva quando c'era la Juventus, che era là davanti, che si giocava lo scudetto estranamente, così come il Milan. Quando poi doveva andare a giocare le partite di Champions, prima c'aveva il Napoli, la Juve, c'aveva il Milan, il Milan aveva la Juve, aveva il Napoli. L'Inter c'ha il Genoa, Cagliari, Sassuolo, Empoli, Partinico Audace, Burgetto, Santa Rosalia, tutte le squadre del quartiere di quelli che ormai giocano solo nell'oratorio. E poi dopo, più avanti, mettiamo le partite di campionato. Quindi, siccome funziona così il modus operandi dei calendari, funziona così anche il modus operandi. Delle informazioni per quel che riguarda quello che sanno loro, loro sanno qualcosa in più di noi, ci vedono lungo, per dire che l'Inter ha quasi l'80% delle possibilità di vincere il campionato, nonostante, ripeto, perché magari qualcosa ce lo siamo scordati, gli obiettivi di Lautaro Martino in campo, Martino, Martinez, in campo con il Genoa, l'ufficialità del rinnovo. O entro Ferragosto, siete tutti al mare, stasera magari guarderete questo video e mi dite ma Lautaro Martinez rinnova oggi? E se non rinnova domani, per dire, potremmo fare un video dove è strano il fatto che non abbia rinnovato. Per carità sappiamo che ha già rinnovato, ha già firmato, è solo che questa firma la vogliamo vedere, perché ci dicevano che Zhang i soldi li aveva in mano. E che Octrino li ha visti, dimmi che l'hai capito.